E c'è una preghiera che i papi hanno sempre raccomandato e di cui ha parlato anche Papa Francesco, è la preghiera del Rosario, che non è una preghiera ripetitiva, noiosa, tutt'altro, è una preghiera contemplativa. Andiamo proprio a Pompei, perché Pompei è il santuario del Rosario. Ci troviamo a Pompei, sotto il porticato della monumentale facciata del santuario della Beata Vergine del Rosario. Di fronte possiamo anche vedere la porta della misericordia, che è stata inaugurata proprio in occasione dell'anno giubilare della misericordia. Diciamo subito che Pompei è un luogo di fede e di carità. È un luogo innanzitutto di fede perché fa riferimento alla figura del Beato Bartolongo, un laico, un avvocato, che nella sua vita ha fatto l'esperienza forte della misericordia di Dio. Qui nel santuario ancora oggi avvengono tantissime conversioni. Vengono persone da ogni parte della Campania, ma anche d'Italia. E ci sono tante testimonianze che vedono persone convertirsi, cambiare vita, proprio perché sentono nel cuore, venendo qui a Pompei, una grazia particolare, che li spinge ad abbracciare la fide. Vivo in questo istituto da ben 13 anni al più. Sono entrato da piccolo, ho avuto molti problemi già da piccolo, per questo mia mamma, conoscendo un po' la storia di Pompei, la storia del Beato, c'è indirizzato nell'istituzione del Beato Bartolongo. E ci ha accolto fra il Filippo. La mia sorella è un po' toccante. Avevo 15 anni, mia sorella ha avuto una malattia rarissima. Grazie alle istituzioni abbiamo trovato sia un ospedale privato dove le poteva essere curate. Loro hanno dato dei fondi a noi per salvarla. Oltre questo, nel mio corso della vita, sono arrivato in un punto dove sono stato estratto da situazioni non molto belle, perché non conoscevo più la mia strada, non conoscevo più il mio essere, ma ogni volta che li rivivo e c'è questa voglia, questo male che ti porta a fare cose che non dovresti fare, vedi la Madonna, vedi la fede. Avevo 16-17 anni più orsù, dove sono stato in un contesto non molto bello. Ero diventato cattivo perché vedevo che di tutte le cattivere che ho subito, mi stavano ritroccendo contro. Facendo ciò, ero diventato cattivo perché orsù ricevi cattivo e vuoi dare cattivo. Sono stato preso in un luogo da fratello Filippo, mi ha riportato alla base, abbiamo fatto una lunga chiacchierata, mi ha chiesto di andare in chiesa, sono andato in chiesa e da quel momento la mia vita è cambiata.